In collaborazione con Amici di itinerari ben ritrovati Oggi saremo alle estremità della Valle Versa In oltre Po Pavese Al confine col Piacentino In uno dei luoghi culto della viticoltura Oltre Padana Siamo nel Tempio del Moscato Ovvero a Volpara Importante realtà sotto il profilo agricolo Come dicevo proprio Che confina, che guarda in faccia L'Emilia Romagna Una realtà davvero significativa Che andremo a scoprire insieme a voi E soprattutto non cambiate canale Seguitemi Ed eccoci arrivati nel cuore di Volpara E qui passeggiando in queste vietche Che incontriamo il sindaco Claudio Mangiarotti Ciao Claudio Grazie di averci ospitato E aver spalancato le porte del tuo comune Per farcelo conoscere a 360 gradi Un comune davvero splendido In mezzo ai vigneti Un comune che è patria del Moscato Ovviamente conosciutissimo anche per questo prodotto enogastronomico Dove si vive però bene In mezzo alla natura In mezzo a tantissima arte In tantissime strutture davvero storiche Beh siamo inoltre Popavese Più precisamente in Valle Versa Veramente un piccolo comune Volpara È grande quanto un condominio di Milano forse Sono 140 residenti Su un territorio di 4 km quadrati Fa parte dell'oltrepò orientale Nella parte meridionale Il centro del comune ha un'altezza di 350 metri E nella parte nord del territorio Scendendo verso sud Nella parte sud del comune Ci spingiamo verso la fascia appenninica Raggiungiamo il confine con la provincia di Piacenza E raggiungiamo le vette del comune Sfioriamo i 700 metri di altitudine Quindi è un comune che si sposta già nella fascia montana del preappennino Beh l'hai detto tu giustamente È vocato per il Moscato Per tutti i vini bianchi in generale Ma soprattutto per il Moscato Avevo letto alcuni anni fa In un libro di storia locale Che diceva che in Valle Versa C'era il Moscato più buono del mondo A Volpara però si trovava quello più buono della valle Ed è vero il terreno di Volpara È specialmente vocato per il Moscato Ma per tutti i vini bianchi Perché c'è una buona produzione anche di Pinot Nero Che è un classico dello spumante Che rende celebre la Valle Versa Di Volpara abbiamo delle tracce storiche Che partono dal primo secolo dopo Cristo È stata rinvenuta anni fa Che vedremo nel contraforte vicino alla chiesa parrocchiale In un terra pieno Una pietra tombale in arenaria È risalente una pietra pagana Tombale risalente al primo secolo dopo Cristo Però è di chiara appartenenza romana Quindi questo ci fa pensare Che furono i romani A creare il primo abitato di Volpara Poi non ci sono notizie certe Ritroviamo dei dati a partire dal 1250 Dati chiari E sappiamo che faceva parte della Signoria d'Este Viene poi trasferita al feudo dei Vescovi di Pavia Nel 1413 questo passa ai Beccaria Insieme a Golferenzo e a Monte Calvo Diventa il feudo dei Beccaria E sappiamo che il feudo di Volpara rimane fino al decadimento del feudalesimo Passando ai Dal Pozzo e poi gli ultimi furono i Belcredi Ad avere il feudo di Volpara Era dopo il trattato di Worms del 1743 Il feudo di Volpara venne dato alla Casa Savoia E quindi facevamo parte dell'antico Piemonte Eravamo parte dell'antico Piemonte Ed eravamo proprio zona di confine Perché a Volpara, l'ho detto prima Confina con la provincia di Piacenza Ci sono addirittura delle strade Che sono ancora oggi confine Tra le due realtà Tra le due regioni Tra l'Emilia e la Lombardia E allora era ancora più marcata Perché era zona di confine Era zona di dogana Tra l'antico Piemonte E il regno educato di Parma e Piacenza Quindi era zona di confine Lo è tuttora Però vabbè naturalmente non esiste più la dogana Ed è un confine strettamente Vabbè solo amministrativo Tra le due realtà Siamo qui Questo è il centro storico di Volpara Questo è di fatto quello che rimane del castello Perché finite le signorie È stato passato ad abitazione civile Questo ha portato a renderlo più funzionale Per la vita abitativa E però ne ha mutato la struttura originaria Vediamo le sembianze di un castello Però purtroppo è andato perso Quello che è l'originario di questo luogo Però se ci avviamo Possiamo anche passare tra i vicoli Salendo verso il vicolo Picchi I picchi erano appunto i signori Furono parte Feudatari di questa Di questa Di Volpara E questo ce lo ricorda E qui arriviamo E ancora oggi Di privati Riusciamo a vedere Qual era la struttura Del cortile Interno del castello di Volpara E questo è il nucleo più storico Purtroppo è molto rimaneggiato Rispetto all'originale Allora Claudio Ci hai fatto fare un giro davvero emozionante Del tuo paese Ci hai già raccontato molto Molto dovremo ancora scoprire Se sei d'accordo Io inizierei il tour Alla scoperta di Volpara Mi accompagni? Volentieri Stefano Andiamo Come dicevamo all'inizio La nostra trasmissione Siamo nella grande collina Che produce Moscato Moscato di Volpara È un prodotto d'eccellenza E noi vogliamo conoscerlo Da vicino E siamo alla cantina Monterossa Abbiamo con noi Massimo Che è il titolare E la giovanissima Veronica Insomma l'ultima generazione Di questa grande famiglia Che si occupa Da quasi 100 anni Da quasi 80 anni Della produzione Di Moscato di Volpara Con questa bellissima E tenutissima cantina Massimo Io ho una curiosità Siamo alla cantina Monterosso So che dietro a questo nome C'è un aneddoto Sì Intanto buongiorno La cantina Monterosso Ha scelto di chiamarsi così Perché noi abbiamo Un bellissimo bosco di roveri Che dista pochissimo Dalla nostra cantina E che quindi È stato storicamente Chiamato Monterosso Per il terriccio Che è leggermente argilloso Quindi tende a rosso E poi per la colorazione Autunnale Anche delle foglie Che praticamente diventa In questo periodo Un bosco veramente stupendo Parliamo un attimo Della tua azienda agricola Dicevo che ha quasi 100 anni di vita Quasi supera gli 80 anni Non c'è un documento accertato Però ha una grande storicità Allora La nostra famiglia Come risulta dagli archivi È qui a Volpara Da sempre E già il mio bisnonno Iniziava a fare un po' di vino E cominciava a servire Soprattutto i nostri parenti E i suoi fratelli Che erano immigrati a Milano Quindi praticamente Da lì in avanti È stato un crescendo C'è stata una battuta D'arresto ovviamente A cavallo della guerra E poi mio nonno Mario Ha iniziato E mio padre Ha proseguito E mi hanno trascinato In questa avventura Dove io adesso Sto trascinando lei Per ora una su tre Perché io ho tre figlie E vedremo se poi Si aggiungerà anche l'altra Non lo so Vogliono farmi lavorare Praticamente finché Finché Voi Diamo delle cifre Della tua azienda La produzione Qual è il vostro mercato E poi due parole Ovviamente anche Sul Moscato Che poi andremo a approfondire Anche nel corso della puntata Guarda La nostra azienda È un'azienda Relativamente piccola È un'azienda Molto semplice A conduzione familiare Noi ci basiamo ancora Cerchiamo di Basarci su dei principi Di produzione Molto Molto genuini Insomma Abbiamo tanti clienti Che ormai Vengono anche loro Da generazione Un po' come i nostri I nostri Genitori Eccetera E quindi Semplicemente Facciamo Facciamo un vino Senza usare Tanta chimica Cioè usando Il meno chimica Possibile Massimo Siamo arrivati Al momento Degustazione All'interno Della tua cantina Cantina Monterosso Ci ha raggiunti anche Verone Che ovviamente Ci ha raggiunti Carlo Aguzzi Non poteva essere Altrimenti Che ci sta Accompagnando In questo viaggio Alla scoperta Del Moscato Di Volpara E di tutti i vini Che si producono In questa magnifica zona Del nostro Oltre Popavese Massimo Che cosa ci proponi Dunque La nostra selezione Dei Moscati Che per un momento Non è ancora completa Perché Dire la verità Adesso andremo Entro Natale Ad imbottigliare Anche la grappa Che praticamente Abbiamo introdotto Nella linea Comprende Il Moscato Di Volpara Tradizionale Con un 4 gradi Di alcol Residuo Un Moscato Di Volpara Spumante Che è un po' Più impegnativo Perché ha un alcol Che si avvicina Ai 6 6 e mezzo E quindi Diciamo Vengono fuori Altri tipi Di profumi Poi lo spiega Bene Il Sommi Di Aguzzi E poi Abbiamo Il Passito Di Moscato Di Volpara Un passito Che ci teniamo A sottolineare Che è stato Pigiato Con un'uva Pressoché Candita Perché L'abbiamo Lasciato Sui gratici Fino al 22 23 Di dicembre Infatti Anche Innescare La fermentazione È stato Abbastanza Complicato E si differenzia Poi Da tutto Il resto E poi Una piccola Chicca Che noi Però Ci porta Una certa Soddisfazione Che grazie Al nostro Suo Eccellenza Il Vescovo Di Tortona Abbiamo avuto La possibilità Di Di avere Anche Il Moscato Da Messa Quindi Adesso Praticamente Stiamo servendo Anche Alcuni Parroci Che preferiscono Bere qualcosa Di poco Alcolico Per non dire Magari Delle Sciocchezze Durante La funzione E invece L'ultima cosa Che vi dico E poi Lascio stare Lascio la parola A voi È che Quella bottiglia Lì È praticamente La prima Bottiglia Etichettata Da mio papà Perché Prima di quella Le bottiglie Venivano vendute Praticamente Senza etichetta Non esisteva Nemmeno Insomma E quindi Quella lì Era stato Il primo Formato Di Moscato Di Volpara Fatta da mio padre Negli anni 45 50 Trova Massimo Allora Adesso Andiamo A degustare Il passito Che è Secondo me Una chicca Della tua Della tua Realtà Aziendale Io però Voglio una domanda Carlo A me ha colpito Tantissimo Il colore Di questo Di questo Moscato Che è il classico Colore Giallo dorato Che esiste Solo qui A Volpara Giusto? Esatto Benissimo Proprio il giallo dorato È il classico Colore del Moscato Di Volpara E che È quello che Identifica Il vero Moscato In questo caso È un Moscato Che ha un bellissimo colore Questo giallo oro E direi che Questo giallo oro Ti invita anche A sorridere Alla gioia Alla vivacità No? Quindi proprio È il colore Al brindisi E alla compagnia Proprio bellissimo Tu hai però Del Moscato Passito Che io Considero uno Di più grandi Moscati Passiti Che ci siano qua E lo devo provare Effettivamente perché È qualcosa che senta I profumi Gli effluvi che avrà Io l'ho già Mi sono già Abbondantemente servito Ma lo servo ancora Volentieri per me E per gli amici Perché guarda Che colore stupendo È un colore che richiama L'ambra quasi Come colore Un colore quasi ambrato E quando scendi Senti addirittura Il rumore Non è il rumore Classico del vino È molto più È quasi oleoso Nel senso Perché è molto più corposo In questo senso Anche se Di qualità Non fa Non fa un grande Alcol Perché È una gradazione Abbastanza bassa In questo caso Guardi Il colore vi ho detto prima Un colore Un ambra Meraviglioso E I profumi che senti Senti Del profumo del fico Della pesca Quella matura Senti i profumi Della bicocca Quelli sotto Diciamo Quelli così Desidratati No L'uvetta passa È qualcosa Eccezionale Al gusto Poi sentirai Come è pieno Avvolgente Morbido Il suo dente Setoso Ti riempie la bocca Te l'avvolge Te la Te la circonde Proprio di questi gusti Meravigliosi Ed è un gran passito Un gran passito Da bersi Così In compagnia Con gli amici Da bersi con calma Da bersi Con Magari Con le paste di mandorle Ma perché no Una bella scalpo Di foie gras Magari Possiamo fare Anche un bel passito Un bel passito Con un po' di fogara Diciamo che Forse la morte Complimenti A Massimo Alla famiglia Ovviamente Con un cincin Anche con il sindaco Che ci ha raggiunti Qua in cantina Per questo brindisi Col passito Noi continuiamo Il tour Alla scoperta Di Volpara Grazie ancora Massimo Grazie a voi Ed eccoci Ed eccoci al nostro primo momento Gastronomico Dedicato alla puntata Di Volpara Un magnifico paese Sulle colline Dell'oltrepopavese Che vi stiamo raccontando E siamo in un tempio Del gusto Ovvero Siamo alla trattoria Il Ceppo Siamo con le titolari Simona e Daniela E qui davanti a noi Una tavola imbandita Di profumi Sapori Anche colori Perché no Io parto subito Dalla chef Di questa trattoria E mi piace chiamare la trattoria Perché qui si respira davvero La genuinità dei prodotti Daniela Che cosa ci hai preparato Per i nostri telespettatori L'antipasto Che c'è coppa, salame e pancetta E abbinato con i risottoli E i fagioli Con dentro la cipolla E il prezzemolo Poi abbiamo il salaminocotto Che adesso andiamo in autunno Lo usiamo adesso E poi passiamo ai primi Di primo abbiamo Questi che sono fatti tutti a mano Tortelli di zucca Conditi con burro E noci Con il sugo di burro e noci Poi abbiamo i famosi ravioli I nostri Che sono i principali Che sono conditi Questi qua con il brasato E sono fatti con il brasato proprio Fatti a mano anche loro E i tortelli di magro Questi sono conditi con burro e salvia Sono fatti con gli spinaci e la ricotta E anche loro sono fatti tutti a mano Poi andiamo sui secondi Poi andiamo sui secondi Questo è il roast beef Abbinato con le verdure fresche Così con il pomodoro in salata La famosa faraona Con le patatine arrosto E poi abbiamo il famoso coniglio Con i pinoli Che anche lui è fatto andare Con diversi sapori Con rosmarino Salvia e via E abbinato ai carciofi E poi c'è il famosissimo brasato Che tantissime persone vengono a mangiare Abbinato alla polenta Tu ci sei in fondo Vediamo in fondo Che ci sono i dolci La torta con le mele Oppure la pere cioccolata Che è molto richiesta E la crostata con la marmellata Tutte fatte da noi Rigorosamente in casa Come rigorosamente in casa Sono fatti questi Questi Diciamo questi Questi primi piatti Ecco Spiegaci un attimo la ricetta Andiamo un po' più nel dettaglio Magari su un piatto tipico Quello con la zucca Allora la zucca Quello con la zucca Viene fatta cuocere la zucca Poi viene Sono fatti principalmente Con dentro il formaggio Ci sono dentro gli ammaretti E basta Il pane è grattato Così da mettere insieme E poi viene fatto Con la zucca praticamente Noi siamo entrati E vi abbiamo visti Al bancone a lavorare Qualche segreto So che per uno chef Svelare il proprio segreto È qualcosa di impossibile Però io te lo chiedo Daniela Questa pasta Come è realizzata? È fatta a mano Anche con le uova Facciamo Cioè mettiamo le nostre uova La farina E poi la mettiamo Nelle nostre macchine E viene fatta Tutta E poi tirata Tutta a mano Cioè con la macchina Ma a mano Praticamente E ovviamente anche La chiusura dei tortelli La chiusura dei tortelli Viene fatta a treccia Come le caramelle Vengono chiamate Anche caramelle Ad esempio i tortelli Sono chiamati Sul piacentino Tortelli di magro Cioè caramelle Caramelle Andiamo da Simona Che invece Io come dicevo all'inizio Io mi sono trovato davanti Un tavolo imbandito Che rispecchia in pieno La tradizione Quanto è importante per voi Proporre ai vostri commensali Quello che è Quello che rappresenta La gastronomia del territorio Noi ci troviamo in un paese Volpara Che praticamente È al confine Tra Pavia E Piacenza Quindi i nostri piatti Richiamano un po' Il piacentino E il pavese Allora I nostri piatti forti Che la gente Ricercano Sono i ravioli di brasato Anche perché Sono molto conosciuti E in questo periodo Specialmente La polenta Col brasato Le nostre materie prime Sono ricercate Le carni I salumi Sono di nostra produzione Le carni Le cerchiamo Dai migliori allevatori E tutte le materie Che noi utilizziamo Per confezionare Per produrre i nostri piatti Sono di prima qualità La nostra clientela Varia Dalla provincia di Pavia Milano E ultimamente Anche molto Brescia Bergamo E anche Torino Noi prepariamo tutto Esclusivamente Cerchiamo di fare Più possibile I piatti Fatti da noi E tantissime persone Vengono proprio Anche ad acquistare I nostri prodotti Perché noi possiamo Abbiamo la possibilità Anche di venderli Bene Simona Grazie mille Di averci illustrato Così bene La vostra trattoria E ci raggiunge anche qui Carla Guzzi Perché ovviamente Si parlava di famiglia Ciao Carlos Di famiglia E qui assaggiamo Un vino Che viene fatto Proprio qua Insomma Che porta il nome Di questa trattoria Esattamente Un vino Avrei scelto Un Riesling In questo caso Perché se lo abbiniamo Con i tortelli Con caramelli In senso piacentino Con i tortelli Di erbette Condite con un burro Fuso Un vino Che deve essere Molto aggressivo E a questo punto Ho scelto Questo Riesling È un Riesling italico Fatto proprio Della casa Proprio Il famoso vino Della casa Crevani Federico Il produttore Che lavora anche qui E che soprattutto Fa un vino Che io dico Che al giorno d'oggi Sarà un vino Che sarà molto ricercato Perché? Perché il Riesling italico Ormai Sembra che fosse Di modi Invece è importantissimo E soprattutto Fa una grazione molto bassa Fa 11 gradi Oggi la gente Vuole bere anche leggero E questo qui è l'ideale L'ideale Perché così si può bere Valitieri Un bicchieri in più E si accompagna volentieri Con questi piatti Io ci permetti Io ti ho servito Una massaggiare Esatto Perché sai Bisogna parlare sempre Con le prove in mano Esattamente Esatto Quindi Lo sentiamo Il profumo È delicato Il profumo è delicato Cosa che richiama Il floreare Il fruttato Senza essere aggressivo E al gusto Leggermente frizzante I peti anche Va a sgrassare E soprattutto Massagliazione Come dicevo prima Importantissimo Perché così Poi siamo Mettere un bicchieri in più A tavola Senza avere tanti problemi E gustare appieno Questi stupendi fiatti Che sono qua Che vedo che I profumi sono meravigliosi Direi di sì Come meraviglioso Anche questo vino Noi continuiamo Il tour Alla scoperta Di Volpara Quindi non cambiate canale Non possiamo non venire In un paese E parlare di arte Qui siamo nella chiesa Parrocchiale di Volpara Abbiamo ritrovato Il sindaco Claudio Mangiarotti Perché oltre A farci spiegare Due aneddoti storici Su questa chiesa Importante Insomma La chiesa principale Del paese So che ci vuole svelare Un segreto Custodito all'interno Di un affresco Claudio Allora Questa chiesa Non è la chiesa originaria Di Volpara Ce n'era un'altra Andata distrutta Precedente Questa chiesa Questa chiesa È stata costruita Lo vediamo In un dettaglio Là in alto Riporta tutte Le date Della chiesa È stata costruita Nel 1659 È stata costruita Perché L'allora Feudatario Di Volpara Corradino Picchi Morendo Nel 1630 Aveva lasciato Un legato Testamentario Che Chiedendo appunto La costruzione Di questa chiesa E appunto Abbiamo questa chiesa Costruita Nel 1659 La chiesa È stata Poi È rimasta Negli anni È stata riaffrescata Nel 1936 E contiene appunto Qualcosa di particolare Possiamo anche Andare a vederlo Nel dettaglio Nell'altare maggiore Sul lato Destro Appunto C'è Questo Affresco Ci spostiamo Raffigurante La guarigione Del cieco Di Gerico La chiesa È stata Affrescata Per volontà Del parroco Di allora Don Bartolomeo Diana E c'è una curiosità Don Bartolomeo Diana Prima di Raggiungere Volpara Era stato curato Della chiesa Di San Rocco A Voghera E durante Questa Sua presenza A Voghera Aveva avuto Un incontro Viveva a Voghera Allora fanciullo Roberto Farinacci Che poi diventò Un massimo Esponente Del fascismo Era a Voghera Benché originario Di Isernia In quanto Il padre Era ufficiale Di cavalleria Nella locale Caserma E quindi Farinacci Bambino Doveva ricevere I sacramenti La Cresima E non aveva Parenti La famiglia Era di Isernia E quindi È stato Il parroco L'allora curato Don Bartolomeo Diana Poi il parroco Di Volpara Suo padrino Di Cresima E tra i due Si è quindi Instaurato Un legame La chiesa Venne Affrescata Nel 1936 Quindi Farinacci Persona di spicco Del fascismo Era all'apice In auge In quel momento Allora Don Diana Scelse Di farlo Raffigurare All'interno Di questo dipinto Per rendergli Omaggio E quindi All'interno Del dipinto Vediamo Chiaramente Lo si riconosce Benissimo Roberto Farinacci In toga romana Mentre gli altri Volti sono Meno chiari Si vede Che sono personaggi Chiaramente Di immaginazione Del pittore Carlo Morgari Che affrescò La chiesa Mentre Il Farinacci È nitidissimo Chiarissimo Sembra una fotografia La sua E quindi Lo vediamo presente In questa chiesa È un dettaglio Molto particolare Non in tante chiese Succedono cose Di questo tipo Vi racconto adesso Un'altra bella storia Di Volpara Siamo immersi Tra i vigneti Ma tra i vigneti Troviamo una coltivazione Di zafferano Siamo con Luciano Che è il coltivatore Di zafferano di Volpara Prego Che sta raccogliendo Ovviamente Le prime Diciamo I primi fiori Per poi essere trasformati Vieni Luciano Proprio vicino a me E così ci racconti Come nasce questa idea È nata Da me Dalla mia famiglia Un paio di anni fa E l'abbiamo messa in atto Diciamo L'abbiamo iniziato Due anni fa E sta andando bene Si tira avanti Diciamo E visto che comunque Abbiamo anche dei vigneti La coltivazione di zafferano Non va a interferire Nel periodo Della raccolta dell'uva Quindi finisce La raccolta dell'uva E poi ci possiamo Dedicarlo allo zafferano Una coltivazione difficile Ci vuole particolarmente cura? È una cosa Come tutte le cose Ci vuole pazienza E soprattutto la passione Se no Non si fa niente Senza la passione Ci vuole tanto tempo Perché è tutto Fatto a mano Quando inizia la fioritura Che è iniziata Un paio di giorni fa Tutte la mattina Bisogna venire qua Verso le sette Sette e mezza Fare la raccolta a mano Poi pulirlo E dividerli Farlo essiccare Poi lo si dà A un laboratorio Dove ce lo confezionano E lo diamo I nostri rivenditori Ti ho visto al lavoro Ci vuole particolarmente Molta, molta, molta delicatezza Per trattare questi fiori Sì, sì Ci vuole Bisogna essere Con parsimonia E soprattutto Bisogna avere tanta pazienza Bisogna avere Perché comunque Anche la schiena Si si abbassa Si si alza Ci vuole il suo tempo Non bisogna guardare Se c'è il sole Se c'è la pioggia Quando bisogna fare il lavoro Va fatto E ci vuole Come tutte le sue cose Si vuole tempo E passione E un po' di fatica Anche Luciano Mi accompagni nel tuo laboratorio A vedere Come è stato trasformato Questo zafferano Quei meravigliosi Pistilli rossi Come vengono poi trasformati Mi accompagni? Perfetto Ti faccio vedere i miei vasetti Perché noi il laboratorio Non ce l'abbiamo Non lo diamo Un laboratorio Su a Tromello Ti faccio vedere I nostri vasetti Confezionati E vedi come viene fuori Una volta finito Luciano Di fronte a noi I tuoi prodotti E qui invece di fianco a me Il tuo futuro Daniele Tuo figlio E tua moglie Giusto? Quindi Tutto è a conduzione familiare Il bello di questa azienda È anche questo È artigianale Giusto? Perfetto Tutto è a conduzione familiare Che cosa sono queste? Come hai già detto Noi abbiamo Un'azienda un po' diversificata In questi anni Produciamo vini Soprattutto a zafferano Ci abbiamo puntato E poi Mi è venuta questa idea Come tutti Nelle nostre campagne Abbiamo piante di frutta Mele Cacchi Mi è venuta l'anno scorso L'idea di Provare Raccogliere le nostre frutte E fare delle marmelate Quindi Quando viene fuori Della frutta buona Della nostra campagna La prendo La faccio La preparo La do a un laboratorio Ce la confeziona Ritorniamo Al mitico zafferano Di Volpara Perfetto Ecco qua abbiamo Il nostro zafferano Confezionato Come hai già detto Si vedono i fiori Questo qua è il pistillo Una volta raccolto il pistillo Il pistillo viene fatto così Si prende il pistillo Si tira via E questo sarebbe Il famoso pistillo Una volta raccolti i pistilli Si fanno essiccare Noi una volta Fatti essiccare In un certo modo Lo diamo a un laboratorio Gli consegniamo I nostri barattolini Questo laboratorio Ce lo confeziona Nella grammatura Che noi abbiamo desiderato Ovviamente Tu parlavi Di azienda Che sa diversificare Il proprio prodotto Non solo zafferano Non solo marmellate Ma anche Produzione Piccola produzione di vino Perfetto Sì Noi abbiamo iniziato Con una piccola produzione di vino Non facciamo Grandissime quantità Nel senso Facciamo tre tipi Facciamo una croatina Una malvasia E un pinot Luciano Io ti ringrazio Ti auguro in bocca al lupo Per la tua azienda Ringrazio la tua famiglia E magari adesso Ci sediamo al tavolo E andiamo a assaggiare qualcosa Comerto Sto scendendo le scale Del Tempio del Moscato Di Volpara Non potevamo venire qui Inoltre Pò Pavese E non venire qui Nella sede principale Dell'associazione Del Moscato di Volpara Dei produttori Del Moscato di Volpara Siamo qui con Quattro produttori Dei sei Di questo magnifico prodotto Che è un po' Un'eccellenza del territorio Un'eccellenza Dell'oltre Pò Pavese Vogliamo raccontarvelo Raccontarvelo a fondo Conoscendo da loro Le varie motivazioni Che hanno spinto A far nascere Questa associazione E insomma Io vado a sedermi Ho già il mio bicchiere Pronto per la degustazione Poi troveremo come sempre Il nostro amico Carlo Aguzzi Partiamo subito Rampuzzi Ho detto bene Siamo nel cuore pulsante Dell'associazione Siamo nel cuore pulsante Del Moscato di Volpara Quando è nata Questa associazione? Buonasera Niente Io sono Rampuzzi Mi scuso per gli altri due Componenti dell'associazione Che hanno avuto Degli imprevisti Sono Chili Martino E Gazzotti Maurizio E niente L'associazione Moscato di Volpara È nata nel 2002 Con l'intento Di valorizzare Il Moscato di Volpara È stata scelta Una zona Dell'antica parrocchia Di Volpara Che comprendesse I comuni di Dolferenzo Canevino Volpara In modo da avere Una zona Piuttosto ampia E dove il Moscato Matura in eccellenza Dobbiamo dire Che conserva sempre Dei profumi Molto interessanti Molto accentuati E in più Ha un'ottima maturazione Che probabilmente Avviene anche In altri posti Ma non ha Questa fragranza Questo profumo Che ha qui da noi A Volpara Massimo Allora Rampuzzi ha dato Un po' Quello che è Il sentime Per cui è nata Questa soluzione Quello di valorizzare Questo importante Prodotto Enologico Sotto il profilo Direi A livello italiano Insomma Si state lavorando Molto su questo Su questo tenore Allora Inizialmente Il Moscato Era veramente Un prodotto Che andava poco Andava poco Perché Per fare un esempio Anche abbastanza banale Anche con la torta Con i dolci Veniva utilizzato Più lo spumante Eccetera Noi Chiacchierando Al bar Tra di noi Eravamo stufi Tra virgolette Di vedere Solo piemontesi Che venissero in zona A ritirare Per pochi soldi Un'uva Che noi consideravamo Invece Un'eccellenza Il territorio Per cui Ci siamo messi Di buona lena Eravamo ancora Più giovani Di adesso E abbiamo coinvolto Inizialmente Anche tutti i produttori Di uva Perché Quello che Rampuzzi Probabilmente Voleva dire Non ha fatto in tempo È che Nell'associazione Comunque Formalmente Ci sono inseriti Anche tutti i produttori Di uva Moscato di Volpara Che sono Che comprendono Il territorio Dei tre comuni E tra questi Solo sei Sono le cantine Che lo vinificano All'interno del consorzio Io mi sono spostato Andiamo a conoscere Gli altri due produttori Alessi e Calatroni Alessi Insomma Io voglio capire Abbiamo parlato Di questa associazione Quello che state facendo Per la promozione Ma perché Nasce qui In questo Lembo di terra Al confine Col Piacentino Un uva Moscato Così eccellente Fin dai tempi Che furono C'è sempre stato Questa tipologia Di prodotto qui Essendo in una zona alta Ai tempi Si produceva Più che altro Vino rosso Perciò nelle zone alte Andava più Vino bianco E infatti Nel comune di Volpara Da che è stato Tramandato Dai nostri nonni Abbiamo sempre saputo Che c'era Questo vitigno Che arriva Dall'antico Piemonte Infatti Questa zona Faceva parte Dall'antico Piemonte Infatti C'è sempre stato Questo prodotto Il territorio Il terreno Tutto quello che è Si presta bene Perché il terreno È argillo marnoso Con una vena calcarea Che è quella Che arriva Dal vecchio Piemonte Perciò Assieme All'escursione termica Questa zona qua Dà questo prodotto Molto profumato E aromatico Che altre zone Parlando dell'oltrepapavese Essendo solo argilloso Non riesce a esprimere Questo prodotto Così Complesso Anche se si tratta Di un vino dolce Che poi viene Vinificato anche In varie tipologie C'è il passito C'è anche Lo spumante E anche la versione secca Diciamo Moscato giallo Perciò abbiamo Abbiamo un po' Allargato La tipologia Moscato In varie versioni In effetti Questo territorio Questo terreno È molto identificato All'interno All'interno del prodotto Si sente Nel vero senso Della parola Calatroni Io avevo Una domanda Una curiosità Perché io sono curioso Tutte le vostre bottiglie Di Moscato Di Volpara Sono identificate Da un'immagine Che è una bellissima immagine Che poi è stampata Su una delle facciate laterali Del vostro municipio Di Volpara Che è una bellissima Nosteria degli anni 20 Dove si brinda E sicuramente Si brinderà A quel Moscato Certo Questo è stato Diciamo Quando siamo partiti Noi Si voleva Si voleva Identificare In una bottiglia Cioè Riconoscere Questo nostro Moscato In una bottiglia Quindi siamo partiti Dall'etichetta Che abbiamo fatto Un'etichetta comune Con raffigurato Questa antica osteria Degli anni 20 E dove Ci raggruppiamo Tutto Quello che hanno detto Gli altri miei colleghi Qua Viene Questo Moscato Grazie al terreno Ecco Il terreno Che c'è qua Come hanno detto Tutti gli altri Insomma Due parole anche sul mercato Qual è il mercato Di vendita Di questo prodotto Che ripeto E lo voglio ricordare Con davvero Con tanto cuore È un prodotto Di eccellenza assoluta Del nostro Oltreppopavese Sì abbiamo cercato In questi anni Noi di valorizzare Siamo andati a fare Diverse fiere Anche all'estero Siamo stati Anche in Cina Shanghai Siamo stati In Australia Siamo stati In diversi In diverse In diverse Grazie davvero Gli amici Dell'associazione Del Moscato Di Volpara Che ritroveremo Anche nel corso Della giornata Io mi sposto Da Carla Guzzi Perché vogliamo Ovviamente Degustare Questo magnifico Prodotto Che ricordo Un analizzato Davvero curioso Uno dei primi Produttori Negli anni 20 A scommettere Su questo Moscato È stato Don Diana Il parroco Di Volpara Che nell'epoca Addirittura Del periodo fascista Era uno Dei maggiori Fornitori Passatemi Il termine Dei più importanti Gerarchi Dell'epoca Fascista Un piccolo aneddito Di solito Sei tu che me lo dici Questa volta Te l'ho raccontato Uno io Carlo Vorrei dire Che ti raccontare Un altro Che io Faremo pari Uno e uno Vedo che stai Digustando Tu Moscato Che è stupendo Io dico una cosa Soltanto Che il Moscato Moderno Questo Moscato Che vediamo oggi È dolce Elegante Raffinato Il Moscato Di una volta Era un drink Energetico Era altro Che i Ghetto Redo O quantomeno Dei prodotti Di Marche Adesso Era energetico Perché serviva Per chi contadino Per chi andava in campagna Ed era un sostentamento Andavano in campagna Volentieri Che dovevano vendemiare Oppure per accogliere Per la campagna stessa E cosa portavano? Pane Salame E Moscato Sembra un controsenso Pane, salame E Moscato Ma invece È una cosa Giustissima Perché i nostri nonni Avevano molte saggezze In questo caso Prima di tutto Bassa gradazione alcolica Quindi non inciuchiva Lavoravano Senza abriacarsi Mettere un fresco Magari nel pozzo Nella riva corrente E poi Pane e salame Perché il salame È leggermente grasso Il Moscato Con la sua frizzantezza naturale Lo va a sgrassare un po' E poi Il Moscato è aromatico E il salame Anche lui è aromatico Quindi è un abbinamento perfetto Quindi pane e salame E io sono Perché non invitare La gente A venire qui Proprio qui al tempio E degustare Una buona fetta Di salame Con i petti di pane E il Moscato Grazie Carlo Di questo cin cin Con questo magnifico Moscato Io mi sposto E chiedo a Corrado Di seguirmi Facci due gradini Mi sposto Nell'ex abside Di questo magnifico tempio Che è rimasto Non un tempio religioso Ma un tempio Della grande Eno gastronomia Ritroviamo il produttore Rampuzzi Che è il gestore Dall'inizio Di questa struttura Ecco Che cosa rappresenta Il tempio Non solo per voi produttori Ma per gli amanti Delle enogastronomie Del territorio Diciamo che Il tempio E' stata una sfida Così Tanto per lanciare Il territorio Per lanciare Questo paese E' stato Abbiamo cominciato Tra amici Cercando di recuperare Questo oratorio Che faceva parte Della chiesa di Volpara Era praticamente Abbandonato C'erano rovi E piante Che nascevano dappertutto Ci siamo messi A disboscare Proprio Io Massimo Soprattutto E Daniele Così proprio Nell'anno 97 Così E poi niente Con l'aiuto del parco E poi di contributi Europei Il comune Poi ci ha visto dentro Massimo Poi ha fatto il sindaco E quindi Buon parito del merito Va a lui Quindi ha riusciuto A recuperare fondi Della comunità montana E della regione Lombardia E' stato creato Questo Questo Praticamente Questo bar E poi Non si potevano spendere Così tanti soldi E lasciarlo lì Immobile Allora Niente Io Mi sono preso La responsabilità Di cercare Di Trovare Un Un posto Ci ha fatto piacere E speriamo Che anche Con questa Così Di far conoscere Sempre di più La nostra zona Che è molto bella E importante Viva il Moscato Di Volpara Alle mie spalle Questo Bellissimo Anfiteatro Che è un po' Il cuore pulsante Dell'attività Culturale E attrattiva Di Volpara Siamo con Veronica Che è la Presidente Dell'associazione Volpara Viva Un'associazione Molto attiva Che si impegna A valorizzare Il territorio E Volpara Ovviamente In particolare Sì esatto Noi siamo Un'associazione Che è nata Due anni fa Con l'intento Appunto Di fare qualcosa Che attirasse L'attenzione Delle varie persone Che abitano Nei dintorni Ma anche Dei turisti Che devo dire Negli ultimi anni Si sono visti Sempre più Con maggiore affluenza Diciamo E quindi Niente Noi nasciamo Con l'intento Di valorizzare Il territorio Proprio Quindi attraverso Le feste Le manifestazioni Che facciamo In piazza Riusciamo a fare questo Ma anche Con la volontà Di portare Un po' Di arte In Volpara E quindi Grazie a questo Meraviglioso Amfiteatro Che è stato costruito Nel 2010 Riusciamo ogni anno A creare Una stagione Di più o meno Cinque Sei serate In cui Proponiamo Diversi tipi Di spettacoli Dai musical Ai concerti Eccetera Eccetera Ecco Quindi non solo Buon vino Non solo Moscato Ma anche Tanti eventi Che servono Un po' A vivacizzare Questo territorio Ecco Prevalentemente Da dove arrivano I turisti Che vengono a visitare Il territorio di Volpara E devo dire Più che altro Dalla città Quindi Milano Comunque città limitrofe Vengono alla ricerca Di un posto Dove poter Sentire ancora Un po' Di libertà Diciamo così E Volpara Si presta molto bene A questo Perché come avrete potuto Vedere Regna il silenzio Regna la pace Quindi Diciamo che sono Davvero entusiasti Ogni anno Vediamo proprio Che aumentano Sempre di più Ma speriamo che Questo afflusso Continui sempre 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 di più E ti ringrazio Veronica Di questo assaggio Di quello che è Volpara Non solo sotto l'aspetto Eno gastronomico Anche sotto L'aspetto della cultura E dell'arte E del mondo ricreativo Grazie ancora Grazie a voi E a breve Speriamo di poter pubblicare La prossima stagione Così che sappiate Tutto quello che accadrà In questo paese Continua il nostro tour Alla scoperta Anche dei sapori Di questa magnifica terra Che è quella di Volpara Nel cuore dell'oltreppo pavese Qui siamo Esattamente Nell'ultimo Lembo di terra Che guarda Piacenza E il Piacentino Siamo l'agriturismo La costa C'è una strada Che divide la provincia Di Pavia E la provincia Di Piacenza Siamo in una bellissima Casa Di collina Di campagna Travi Camino acceso Alle mie spalle Davvero L'atmosfera È ai livelli Più alti Siamo con Attilio e Marina Che sono i due titolari Di questa magnifica Struttura ricettiva Dove si mangia ovviamente Tipico Attilio Noi siamo Curiosi Ma golosi Quindi partiamo subito Che cosa ci hai preparato? Allora io ho pensato Vista la stagione Di fare un menù Dove il tema dominante È il pane Dove il pane In questo caso È l'accompagnamento Dei salumi Che nel nostro treppo I salumi sono Il classico E che prosegue Vabbè Con la polenta Ho preparato Un insieme Delle nostre verdure Che sono zucche Patate Ci ho messo qualche fungo Lo scalogno E anche in questo caso Ho preparato del pane Abrustolito Che possiamo Diciamo Insaporire Con lo scalogno Che non è così invasivo Come l'aglio E comunque Dà un sapore E un aroma Molto Molto buono E una torta di formaggi Perché questa ci sta sempre In questo periodo La si mangia sempre volentieri Come primi Ho pensato Il pizzarei Efezze Piatto classico Piatto Che è della cucina Tipica Piacentina Che è subito di qua Dove L'alimento Principale È il pane Pane grattugiato Almeno al 60% E poi Una Zuppa di fagioli Però presentata Dentro il pane Come noi facciamo Di solito In modo che il pane Possa essere anche Un condimento Insieme Quando uno si fa Mangiare La La zuppa Se vogliamo passare Al secondo In questo caso Io il pane L'ho preso E l'ho usato Per cuocere Se posso Vi faccio Vedere Quindi due E all'interno Ovviamente C'è una C'è una carne Da quello che ho capito Giusto Vi faccio vedere Noi lo cuociamo Il pollo Dentro Al pane E ha Secondo me Diciamo Due funzioni La prima Diciamo che è di bellezza Perché si presenta Molto bene E la seconda È che fa cuocere Il pollo Noi lo facciamo Semplicemente Con un po' di rosmarino Qualche aroma Finito lì Fa cuocere il pollo Nel proprio vapore E il pollo Rimane veramente Delicato Molido Perché la carne Ovviamente Non diventa molto tenera Rimane comunque gustosa Esatto Finiamo con i formaggi Che facciamo degustare Noi abbiamo iniziato Da poco Con la collaborazione Con questa azienda agricola Di Romina Presta Che ci fa Queste confetture Il miele E che diamo In degustazione Insieme ai formaggi E quindi Con piatta vincente Sì Direi che Si sposano Veramente bene Perché Poi fa Tantissime cose Perché fanno La confettura Di fichi Di prugne Selvatiche Il miele Tranto Tutta produzione Biologica Ed è molto apprezzato Questa cosa E per finire La torta di mia moglie Che è anche questa E questo è quanto Vi ho presentato qua oggi Allora Tu hai citato tua moglie Io mi spongo Presto vado da Marina Ciao Marina Grazie di averci accolti Nel tuo ristorante Il tuo agriturismo Io ho scoperto Che voi nella vita Facevate completamente Tut'altro Tu eri una farpacista Tu marito Lavorava in un altro settore Esatto E che cosa avete trovato Nella gastronomia Nella gastronomia Più che altro È stato per Tornare qui Nella casa dei nonni Dei genitori Di mio marito Lui ci teneva tantissimo Ci tiene sempre C'è l'azienda agricola E quindi Portare avanti Tutto quello Che è La sua vita La sua vita Diciamo E quindi Abbiamo pensato Di fare questo A me piace cucinare Lui anche Lui anche Ha imparato E a lui piace comunque Avere a che fare Con le persone Intrattenere le persone O l'anfitrione Del locale Parlare di vini E tutte queste cose E così nel nostro piccolo Cerchiamo di Cerchiamo Di avere a che fare Con le persone E tutto sommato È bello E' bello far vivere La costa Benissimo Marina Questa semplicità Che hai descritto La si avverte tantissimo Io chiamerei Carlo Aguzzi Che anche qui All'agriturismo La costa Ci ha raggiunti E andiamo a versare Però non nel bicchiere Ma rigorosamente In una scodella Di ceramica Come si fa In questi luoghi In queste osterie In queste trattorie Nelle osterie Di una volta Che cosa beviamo? Bevo Bonarda E prima giustamente La tradizione E allora la tradizione Comporta La scodella La nostra classica scodella La scodella bianca Che ricorda tanto I miei vecchi tempi Vedi Invecemo colore Lo si può anche far girare Che si vede proprio La colorazione Che assume Dove sono anche per te Ovviamente Io ci metto Il classico dito dentro Io no Perché la tradizione E' giusta rispettarla Ma vi piace Più rispettare In questo senso Passiamo Chi credisce E cosa facciamo? Discrizione Prima di tutto Beh qui Voi non vedete In televisione Ovviamente il colore Ma il colore è stupendo E bellissimo A me piace avvinarlo Poi lo faremo meglio ancora Si ossigena di più Il vino prende più aria Quindi respira di più A primi profondi versi Molto più ampi La buonarda classica Sentori di viola Sentori di fragola E in bocca Leggermente frizzante Petian Che con questi piatti Meravigliosi Si sposa alla perfezione Quindi tradizione Giusto Vino e piatti Sono proprio Lo che ci vuole In questo senso Allora facciamo Uncincina La grande tradizione L'agriturismo La costa Con questi Bicchieri O meglio Scodelle Adesso però Noi Attilio e Marina Vi ringraziamo Davvero di cuore Per averci fatto Degustare questi prodotti E andremo a sederci Perché vogliamo assaggiarli Ma assolutamente Non vediamo l'ora Lo dovete fare Vi prepariamo Qua davanti al camino E come tradizione Il dedo dentro Condivido Vi raccontiamo adesso Una bellissima storia Legata al grande Al grande Anzi grandissimo Made in Italy Italiano Qui sulle colline L'oltreppo Pavese A Volpara Esiste una creatrice Di borse E di così E ne altre Molto preziose Siamo con Inalia Ricci Che insomma Disegna proprio qui Nel suo atelier Borsi di stoffa Alte creazioni Per l'alta moda Insomma Come è nata Questa grande passione Allora Questa passione L'ho sempre avuta Quindi nasce Con me E mi è stata tramandata La passione Per il fatto a mano Da mia madre Cordini Rita Alla quale poi ho dedicato Il brand Che è Cordini Rita E mi ha trasmesso Proprio la passione Per il fatto a mano L'artigianalità E da qui È nata la voglia Di sviluppare La mia passione Per la moda Creando qualcosa Di concreto E in questo caso Borse Siamo stati proprio Siamo stati proprio Selezionati In alcuni eventi Del fuori salone Di Pitti Per presentare La nostra collezione Abbiamo partecipato Anche a Mipel Sua maestria Che è stata Lo scorso anno Qui a Pavia E la rifaremo Poi abbiamo partecipato A tanti altri eventi Anche a Milano Abbiamo fatto presentazioni Sfilate Durante la settimana Della moda E soprattutto Insomma Siamo anche all'interno Di alcuni showroom esteri In Cina In Germania Che quindi insomma Ci permettono Di far conoscere Il made in Italy Nel mondo E quindi non solo Qui in Italia Qui viene creata La collezione Dall'inizio Fino al prodotto finito Quindi Noi scegliamo I materiali Quindi visitiamo I nostri fornitori Partecipiamo Alle varie fiere Di settore Per scoprire Sempre materiali nuovi E appunto Legati anche alla sostenibilità Perché tutti i mesi Ci sono nuove ricerche Legate a questo Poi procediamo Con la realizzazione Sia dei disegni Che dei cartamodelli Ad esempio Questo Giusto per mostrarvi È un cartamodello Dal quale poi Si parte Con la realizzazione Della borsa Quindi dal cartamodello Si passa a tagliare Il materiale Che poi verrà Assemblato O cucito Insomma La lavorazione È molto lunga Non è così scontata Perché ogni borsa Ha una lavorazione A sé Quindi diversa Anche in base Al materiale Ad esempio Lavorare un pizzo macramè Richiede Molta più attenzione Rispetto A un tessuto Magari Più liscio Per cui Ogni tessuto Ha le sue particolarità Bene Ilaria Grazie mille Di averci ospitato Nel tuo atelier Perché Ci hai raccontato Davvero una Cosa davvero Unica e particolare Soprattutto nuova Per i telespettatori Di itinerari E come diciamo noi Sempre Viva il Made in Italy La famiglia Alessi È talmente radicata In questo territorio Che dal 1500 È nata addirittura Una frazione Di Volpara Che è Poggio Alessi E qui siamo Un'azienda agricola Il Poggio Quindi siamo Con Roberto Alessi Grazie mille Di aver spalancato I portoni Della tua cantina Ho detto bene Insomma è talmente radicata Questa tua familiarità Con questo territorio Che addirittura Ha preso il nome Questa zona Della tua famiglia Insomma è tu E poi hai preso il nome Invece Poggio Alessi Esattamente Come hai raccontato tu Sì Infatti siamo qua Da parecchio tempo Amiamo questo territorio Tanto da dimostrare Che non ci siamo mai spostati Non ci siamo mai andati Abbiamo di nuovo riportato In voga Il Moscato di Volpara Ritornando a vinificare Cerchiamo di produrre L'eccellenza della zona Assieme a tutti gli altri Con l'associazione Di cui abbiamo parlato Pocanzi Roberto Ovviamente La tua azienda agricola Come dicevamo È una storicità lunga I tuoi genitori Tuo nonno conferivano uve Quindi hanno smesso Di lavorarla in cantina Invece tu hai voluto Riportare La passione Di fare il viticoltore Non solo in vigna Ma anche in cantina Esattamente Perché I miei bisnonni Avevano la cantina Abbiamo anche qualche premio Per dimostrarlo Però Diciamo nel periodo della guerra Che non è stato molto facile Hanno smesso di Di vinificare E conferivano solamente Le uve Se sei d'accordo Dopo un giro veloce In cantina Perché io sono curioso Mi piace andare a approfondire Come lavorate voi in cantina Ci spostiamo nella sala Degustazione Per il gran finale Di questa trasmissione Degustando una chicca Davvero particolare Che produci Quasi esclusivamente Solo tu sul territorio Se non addirittura Solo tu sul territorio E dove troveremo Ovviamente Nuovamente Carlo Aguzzi Che ci sta seguendo E il sindaco Mangianotti Andiamo? Andiamo Eccoci Roberto Nella tua sala degustazione Davvero singolare E particolare Hai usato una botte Per trasformarla In un tavolo Ci hanno raggiunto Il sindaco Claudio Mangiarotti E il vice sindaco Bossi Roberto Allora Ho una domanda Noi abbiamo sempre assaggiato Il famoso moscato Dolce Di Volpara La versione secca Perché E soprattutto Come si fa Perché Perché Esiste Nel resto d'Italia Anche una tipologia Di moscato secco Perché Anche Nessuno Lo faceva E secondo me È un prodotto Che merita Perché Essendo un vino Con un certo alcol Perché ha un 13 gradi Però Avendo i profumi Di questa zona qua Che Ha un profumo unico Infatti I moscati d'Italia Non sono come questo Questo Tende ad avere Inizialmente La frutta La frutta Diciamo L'albicocca E dopo Si evolve nella salvia Che trovi solamente In certe piccole zone Del Piemonte Nelle più vocate Per questo Abbiamo deciso Di fare questo prodotto Viene vinificato In due modi A una parte Viene fatta una macerazione Sulle bucce Di circa 36-48 ore E l'altra parte Viene fatta fermentare A temperatura controllata Per circa 30 giorni Perciò è una fermentazione Molto lunga A freddo Perciò a 12-13 gradi Per non perdere Proprio questo Questo profumo Che cerchiamo di mantenere Che è il profumo Del moscato di colpare Certo Insomma Questa aromaticità Che deve Rimanere all'interno Del bicchiere Io In frattempo Vado a servire Anche il sindaco Prendo anch'io Il bicchiere Carlo Raccontaci questa Particolarità Io dicevo Che è uno dei pochi Produttori in zona A fare un moscato secco Se non l'unico Anche nei nostri tour Non l'abbiamo incontrati Ecco Personalmente Anch'io Non conosco Altre persone Che abbiamo fatto Un moscato secco L'unico moscato secco Che ricordo io È in Trentino Adige Un moscato giallo Quindi qui Abbiamo in particolarità Una chicca Proprio D'oltre Popavesi In questo caso E tu guardi Il colore Che è bello Un bel colore È un giallo Non molto carico Però molto Molto dorato Comunque lo stesso Bello luminoso I profumi Come ho ricordato prima Ho sentito prima Come lo spiegava Ricorda un po' La picocca Ricorda un pochettino La salvia Il muschio Anche Il muschio bianco Quindi molto interessante La particolarità È proprio Questa In bocca Il gusto Che Molto asciutto Secco Proprio Veramente secco Ideale per l'aperitivo Un bel aperitivo Con questo Moscato Ideale Ideale anche Con qualcosa A base di verdure Specialmente Quindi È un piatto È un vino Da servire a pasto Antipasti Oppure soprattutto Anche i primi piatti A base di verdure E questo Cos'è che dire Il moscato È favoloso Il moscato È stupendo Volpara È una città bellissima E a proposito Voglio ricordarti Che Avete visto il castello Che già nel 1041 Si parla di un'ordinanza Di un certo Rigo Primo Che era Re di allora Che obbligò I marchesi Dei tenuti Del castello A vendere A cedere A cedere Questo castello Al vesco di Pavia Compreso tutti i vini Che erano contenuti Nel castello Quindi già loro si parla di vino Volpara Quindi tradizioni storiche Meravigliose Che vanno ricordate Quindi Forse non era il moscato Di Volpari Adesso Però comunque Sempre di Volpari Si parla di vino E di grande tradizione Legata alla viticoltura Come questo vino Prodotto Dall'azienda agricola Al Poggio Che noi ringraziamo E ti ringrazio davvero Roberto Per averci fatto Scoprire l'ennesima Chicca davvero unica Di questo magnifico Territorio di Volpara Grazie ancora Io ringrazio Carlo Per averci seguito Anche oggi Di cuore Ringrazio il vice Sindaco Bossi Ma soprattutto Ringrazio il grande Padrone di casa di oggi Il sindaco Claudio Mangiarotti Che ci ha davvero Anche lui Spalancato le porte Del suo paese Ti ringraziamo davvero Di cuore Grazie Stefano Grazie Tele Pavia Per questo speciale Dedicato al nostro comune Beh io Abbiamo visto il moscato Oggi In tutte le sue declinazioni Mi spiace Per i telespettatori Che non hanno potuto Apprezzare Dal punto di vista Del palato Le nostre chicche Eno gastronomiche Perché abbiamo spaziato Anche sull'Eno gastronomia Però posso far Rivolgere loro un invito Veniteci a trovare Potete conoscerle da vicino Ma soprattutto Perché ve lo ricordo sempre Il nostro territorio È un luogo da visitare Ma anche da gustare A mercoledì prossimo Ciao Ciao In collaborazione con